Come risolvere il problema riguardo all'aggiornamento KB5034204 quindi in questo caso se non riesci a scaricarlo e installarlo su Windows Update automaticamente è possibile farlo manualmente quindi in descrizione ti ho lasciato un catalogo che ti porterà sulla scheda di tutti gli aggiornamenti che ti servono e ovviamente dicono che è uscito un altro aggiornamento di un'altra versione che al posto di 34 c'è il 44 però alcuni hanno ancora problemi a scaricare questo aggiornamento del KB5034204 quindi vai in descrizione, clicca sul link, ti porterà sulla pagina questa qua ovviamente se tu vai a scrivere il tuo aggiornamento KB5034204 ti usciranno tutti questi aggiornamenti quindi tu vai su scaricamento quindi noi andremo a scaricare la versione più grande del 23 di gennaio quindi faccio scaricamento ovviamente il file deve finire come .msu così facendo possiamo installarlo come pacchetto driver quindi clicchiamo qua sopra desktop, salva e aspettiamo il download ok una volta scaricato eccolo qua sul desktop io ovviamente ho già installato questa, cioè ho già installato così questa versione quindi sicuramente mi dirà installazione già, pacchetto già installato quindi pacchetto autonomo Microsoft Update esegui come amministratore se non possiamo eseguirlo come amministratore cerchiamo direttamente sopra preparazione installazione e aspettiamo programma impossibile applicare l'aggiornamento al computer come ho detto io l'aggiornamento già lo ottenevo installato come puoi vedere aggiornamento accumulativo per Windows installazione riuscito del 26 di gennaio ovviamente ho fatto tutto automaticamente sul Windows Update quindi se non dovesse andare a te tu puoi farlo manualmente sul sito quindi se hai problemi con gli aggiornamenti di Windows Update commenta sotto al video e mi raccomando usa questo sito del catalogo che è veramente molto comodo e potrai scaricare tutti gli aggiornamenti che vorrai quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao